buongiorno cuccodrilli eccoci fa! fa! ma che tu fa? oh! fa! che bello ci siamo andato subito a fanculo le mattina eh era una maribolla morono tu sei bello non mi faccio? non mi fai chiretti adesso bello chiretti 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 buongiorno se li dice craftedo sì sì chiusa chi è? si i per� con la gattina non capisci come i pistoli cani nel gattolo ha il gattino ma ma io c***o fedeli ah eh grazie ma io ma io c***o ma io c***o ma io c***o ma io c***o oh no che stai fa che stai fa oh che stai fa che stai fa niente dove andare dove dove sì 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 è venerdì ragazzi è super pronta sta per partire incredibile si accendono i motori si accende tutto e scende l'ombrellone quando lo vede il nonno si incavola apertura dell'ombrellone a cobra guarda che bel cobra eccola eh dove stiamo eh il cimitero andiamo a trovare la zia Gianna c'è il doppio bastone oggi eh io e quello e due bastoni ecco vedi come cammine bene questa è quella della vecchiaia eccola zia eh Gesù misericordioso mi raccomando c'è anche il coccodrillo padre e spio tutti eh sì già Senti Antonio mio San Francesco del Sisi Santuvaldo aiutatemi con questo fatto scatenato che mi fa morire dalla paura mamma mia ma siamo andati a 20 l'ombrellone lo ha sistemato sicuramente il nonno adesso vediamo che mi dici così live sicuramente un cazzo l'ha aperto scendo vediamo cazzo non andava bene come andava bene e tu l'ombra non l'ha aperto giù giù ti va a cuccire eh andava bene allora sta cuccire con me perchè e perchè non l'hai saputo aprire e perchè e perchè e perchè sei un coglione di sullo store caglietta si 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 è venerdì sullo store fate swipe www.carlettolife.com e troverete anche mascherina telo da bagno sta pieno costume sta pieno tazza sta pieno canottiera e in più potrete venire a mangiare qua qua eh nonna marie che gli fè se viene qualcuno che gli fè le tagliatelle quindi ragazzi se acquistate un articolo facendo swipe venite a mangiare qua c'è qualcuno che già sta arzuga guarda 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 come arzuga guarda anche la maglia sta pieno fate swipe fate swipe e venite a pranzo con noi dai arzuga ma possi ma possi vedere arzuga come un coso cioè io sto a mangiare vedo da te carzuga eh oh sta sempre arzuga e lui dormi dormimo? sì i segnali attuali sia la volta da te come dormi nel tuo sogno oh faaa 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 nonna marie faaa 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 ma un po' di qualcosa da Lukaku oh Luca cerca di non insegnare eh Luca non insegnare eh non insegnare contro l'Italia eh e dove è Lukaku? è De Fuligno De dove? De Fuligno ma quindi è è italiano o del belgio? lui è un paesano di Spinazzola De Fuligno tutti e due è vero tutti e due De Fuligno? eh mi raccomando oh no dai che c'è Subasa contro Yuga oh mi fai alcanza a me eh eh quanto è bello? che fanno? Subato che fanno? Capitano Subasa? eh eh che c***o fai i gol guarda come si muove Subasa destro sinistro antipasto misto eh o no? ti piace? si eh chi è capitano? Subato oh no eh ha bucato tutti i palloni lei con che giocono? con le palle mie quali? eccole quelle? si ma oh no ha buttato dentro anche il portiere Subasa oh che ha fatto Subasa? che ha fatto Subasa? che ha fatto? tu c'è in sonno va a dormire guarda grande capitano! eh capitano al quindicesimo della finale capitano Subasa c'è tutto rotto spalla piede distrutto proprio però confidiamo in lui quindi prossima settimana belli carichi per capitano Subasa non è come lui che dorme ore 16.30 a Bastia chi vuole venire a giocare a beach volley ragazzi non fate i timidi o ragazzi ci servono tre giocatori o giocatrici scrivete a Spezio un morino oh il coccodrillino se 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 il coccodrillino se quel filtrino se se eccolo se già la maglia bene eh però più bella sta pieno si presentano a giocare nome? Daniele eh? Daniele e Gabriele pronti? pronti se c'è qualcun altro che vuole venire noi siamo qua eccoci vai è arrivato è la sua canzone eccola ecco il manda metto le lancette vai Spezio chi vuole si può giungere siamo qua oh va piano vuole fare l'esperto ecco guarda si c'è il pellet l'estate l'ombrellone o no? fa nonno o no? nonno o no? ma che cazzo? questo è fa comunque stasera il dottor Battiloni non è passato fa ogni tanto mi parte il fa ma da voi mi parte il fa e cioè fa è fantastico è fantastico perché è fantastico che fa come fa mo fa voloso cioè pazzesco il fa fa diventerà il nuovo saluto internazionale fa cazzo 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 una maia sta pieno quello che vi pare www.carlettolife.com e rischiate anche le mani a questa se se suai guardate che torta torta al testo top prosciutto top salsiccetta secca queste sono le cene buone comunque la ricetta e la torta al testo la trovate sul mio youtube quindi carlettolife su youtube andatela a cercare qui sta una montagna di prosciutto guarda che montagna di prosciutto che hai fatto no oh nonno non vedo niente non sarà un po' troppa ho fatto la cataratta non vedo ah lei non vedi non ci so il cagliato della spagna bruschetta chi bruschetta ma bruschetta che bruschetta bruschetta e tu pensi sempre a mangiare vedi taglio ma è tutto pronto il nonno c'è carletto c'è la nostra nazionale italiana c'è le scarpette ci sono forza italia vai forza italia più forza che schiava di roma e che dio la creò stringiamoci a corte sia pronti dai o no l'italia chiamò l'italia chiamò siamoci a corte dai pronti alla morte sia pronti alla morte l'italia chiamò si e prima l'italia vai 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 go 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 chi ha segnato gol è uno gol è uno è uno gol chi ha segnato ma che ne so ma come che ne so e non ho visto niente ma come ne hai visto niente e non ho visto niente chi ha segnato chi ha segnato barella chi ha segnato la doppia dentiera rimisticata non può urlare tanto nonno per via dell'occhio quindi è un po' più tranquillo del solito ma io sono scatenato forza 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 ammolliamo un cazzo eh teniamo alta la carica chi ha segnato? non ne so ma tu sei un cazzo bro chi ha segnato? chi è? insigne che cazzo dei gol insigne ragazzi mamma mia che cazzo dei gol grande dopo mi dico mangio la voce dopo la parte d'Italia perché più quando gioca la nazionale che gol che ha fatto forza non abbassamo niente inizia il secondo tempo ragazzi stiamo carichi anche da casa eh siccome il nonno non può urlare guardate che gli ho dato carichi 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 non molliamo mai in cazzo anche da casa ragazzi positivi esce Leo il migliore finora di tutti quanti Leo siamo tutti con te forza però raga non molliamo non molliamo non molliamo non molliamo non molliamo non molliamo si è pronto si 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 Mamma mia quanto godo! Spaccato tutto ragazzi! Spaccato tutto! Guardate qua! E' muovito! Si! Ma l'hai scocciato! Non sei contento? Ma va a farlo! Si armetterà! Poi ho sfondato tutto! Perché sono un cantante! Io sono un cantante! Tu sei un c***o! Tu sei un c***o! Sì! Basta la testa! Non capisci un bel volo! Dai dai! E' buona! Sì! Sì! Dai col Busterino! Vai col Busterino! Vai! Sì! Dai col Busterino! Vai col Busterino! Vai! dimmi chi ti ha vestito il muflone umbro sfoggia un calzetto ma non è che ce l'ha ingessato guarda non ti passa il sangue mamma mia ci ha messo lo zampone ci ha messo lo zampone è nata bene buonanotte dalla cristoteca mangio un po di anguria e stasera prima di andare a dormire una cosa faaa